In Emilia Romagna abbiamo pensato una soluzione per cercare di ottenere nuovi risparmi sulla parte della non mobilità. Abbiamo depositato un progetto di legge per il carpooling, la possibilità per chiunque faccia parte di una pubblica amministrazione regionale, in regione, di poter condividere un automezzo per spostamenti interni. Questa piattaforma, che dovrebbe essere sviluppata dalla Regione Emilia Romagna, si basa sul concetto del Mobility Manager, cioè mette a disposizione informazioni su percorsi già programmati da personale assunto che lavori all'interno della pubblica amministrazione. Quindi non solo per quanto riguarda i dipendenti della Regione, ma anche a disposizione dei comuni e delle ex province o aree metropolitane o aree vaste. Questo permetterebbe di ottimizzare gli spostamenti, riduciando i costi delle pubbliche amministrazioni, ma oltretutto inciderebbe in quota parte anche per la qualità dell'aria. Inoltre abbiamo sempre detto che la mobilità dovrebbe essere sostenibile, dovrebbe tenere conto delle esigenze reali degli spostamenti dei cittadini. Questo è l'obiettivo di legge, legge sulla quale ovviamente ci aspettiamo tutti i vostri contributi. Grazie